Stiamo per addentrarci in una delle ville più infestate del Torinese, la Villa del Diavolo. Grazie per la visione! 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 1... 2... 3... 3... 4... 3... 3... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 6... 7... 6... 7... 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 9... 10... 9... 10... 10... 10... 10... 10... 10... 10... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 14... 14... Io ho messo un sensore di movimento davanti alla telecamera, quindi quando si spegne puoi passare anche lì davanti e farlo così illuminare. Quello sarà anche un segno che tu sei qua. Ok. Ora spendo. Puoi far sentire? Io non sembro... Pazzo, eh? No, non sembra che il controllo. Si. Non riesci a prendere... Parla, per favore, dici qualcosa. Ma sei sempre e cinquanta? Guarda, sei e cinquanta. Ok. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Guarda, cosa c'è? Sei qui, no? Io sono qui. Cosa c'è? Non so come se qualcosa... Come se qualcosa... Il cassero zaino, qualcosa anche. Ah, ok. Però qui. Ma dove vengono i rumori, tra l'altro, no? Ma dove c'è un uomo qua? Passa davanti al sensore e illuminalo. È un ordine. Passa davanti al sensore. Un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Ti c'è? Guarda, tieni da qui qua. Ali, che c'è di un nuovo? Io, 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 io. Sono qui, su questa mano. E' un seguito. Un'altra cosa. E' un'altra cosa. Mi senti? Sì Dimmi di sei, dimmi circolome per favore Hai detto qualcosa? Sì Cos'è stato questo? Questo è il tuo? La mia sentita? No Certo Sì 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 Ragazzi qua si sentivano di ampia È un botto forte sopra Come dei lamenti? Non dichiaro la macchina foto Può essere la macchina foto sopra Ah no Ma è caduta? Siamo sotto la chiesa qui in giro Ma se la forza è stata tutta la forza Pum Però Sì Sì Non so E prima dei lamenti C'erano degli urli e dei lamenti Proviamo ancora Stai urlando? Stai urlando? Stai urlando? No Ho sentito il saluto Che fa Cos'è stato? Cos'è stato? Hai sentito? La sub? Tutta ur? Come se Un sub? Che faceva su? No Io non ho sentito Io non ho sentito Io non ho sentito Io non ho sentito Sì Va bene? La sub? La sub? La sub? La sub? La sub? Dalle scale Parla Dici qualcosa per favore No E come si fosse molto? Ancora Se hai sentito? Sì Ma guarda E' qua E' qua E' qua Di nuovo E' qua Viene da lì Io ho messo Non ho Non ho Deggione No, no Io ho sentito Il co-sbox Ma è una prima Ma è una prima Ma è una prima Ma è una prima Tu vai Tu vai non so Io ho Meglio dita per tutto ma è sopra la testa qua Io ho la testa Questa Questa Avete Sì Ma voi tutti insieme Sì 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 Chi è che si lamenta? Hai sentito? Hai sentito? Ma qui? Sì Qui ragazzi? Sì Ancora se sarà in ovo? No Eh sì Ehi ma che grattiava? No Scusi Ancora Favevi male? No Freddo Freddo Ma neanche come se ti facessero i grattieri Ti vedi bene la bella d'orca Giusto? Sì Vuoi cominare il sensore per favore? Tu ci sono un po' di reti Esatto No No Non è vero Ma cosa è che sei arrivato? Ma cosa è stato? Che hai sentito sto botto ragazzi? No Ma sei Tre volte Tu 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 Va forte Ma veniva da sotto, non da sopra ragazzi, vieni da sotto, ma da sotto non c'è niente, c'è il culicolo, c'è un culicolo però non puoi andare, io c'ero andato, no ragazzi, è stato, ma da sotto, non da sopra, eh. Comunque i K2 si sono solo illuminati nella stanza dell'altare. Chissà se la macchina fotografica ha rivelato qualcosa. Vieni qua, vieni qua dove siamo noi per favore, accendi quello strumento lì davanti, passa lì davanti e accendilo, vediamo se sei così forte. Ma tocca a qualcuno di noi. Ok, tocca a qualcuno di noi. Non sei così forte. Stato. Tu. Cosa? Stato. Anche io. Io ho le gambe. Ah, io ho la mano. Vieni, non posso stare. Mi sta venendo mal di testa. Come? Mi sta venendo mal di testa. Tanto. Sì. Che luco. C'è qualcuno qui? Qualcosa mi ha toccato qua il braccio. Ma ora? Sì. Si appoggia? Se qualcosa ti facessi così. Si appoggiata magari. No, no, no. Perché ero messa così. Ah, davvero? Si, ti giuro quando ti fanno così. E non avevo nessuno vicino. Qua. Io ero qua. C'è lui vicino a te. L'angolo. 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 Prima gli hai sentito. Prima si, ve lo stava dicendo. Ti stavo dicendo. Tu stai dicendo che è brutta. È bruttissimo. La sensazione di sentirsi toccare quando sei lontano. Comunque si è messo così. Lontano. E ora mi ha toccato adesso. Stavo guardando qua così. Stavo dicendo mi è bagnato. E Enrico ha detto c'è un pozzetto di là. Ho sentito. Non mi toccare. Non tanto. Non forte. E' stato... Ma è una brutta sensazione o... No. E' stato un tocco. Un tocco e basta. Nulla di... Inizialo. C'è il panellando così. Ma... Oh, sta succedendo delle cose strane. Puoi rifarlo? Puoi toccare qualcuno di noi? Vieni qua e tocca qualcuno di noi. Occhio Beatrice. Magari tocca di nuovo te. Hai toccato Beatrice? Sì. 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 Toccaci. Tocca uno di noi. Non farlo solo quando vuoi tu. Te lo abbiamo detto adesso fallo. Fai qualcosa perché noi capiamo che tu sia qua. Forza. Sì. Ti sento solo. Ma ho sentito, sono ind著, non so... Si sentito solo niente. Ce la mia mano. Un soffio padre. Non soffio padre. Non... Si spostoca... Ci sono cose che le fa solo dopo un po' che tu le dici Sì Poi il rumore prima Ecco, tipo tu prima gli hai detto fai un rumore più forte E l'hanno stati tipo un minutino zitti e l'ha fatta E beh, come appunto io ho detto tocca il rumore No io me l'ho fatto dopo... Dopo? Cinque minuti Sì Chiantissimo Fortissimo Forte, forte Sempre quel rumore del subwoofer sembrava Mamma mia, ragazzi, fortissimo Sì, sì Porca Questo era nitido Ma vibra dentro, c'è una roba che... Lo senti nello stomaco Sì, è talmente profondo Io te la andiamo su, così lasciamo questo posto e vediamo la macchina fotografica se ce n'è ancora Grazie Ma se ci dividessi... Ponte provare Ponte provare Ponte provare Ponte provare Ponte provare Non esca in radio perché siamo... Troppi Sì, siamo un bel gu Può essere, magari presi tra virgolette singolarmente Eh Ma insomma... Magari non si... No, no, certo Sì, d'acqua Che forse... Ti lati, ti lati, ti lati Hai sentito i ragazzi, d'acqua Forte, 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 forte Non mi so, oggi dai Non è quello di oggi Non è quello di oggi Non è quello di oggi Un po' Occhio È quello di oggi Era fortissimo, eh Non lo so Non era qua sopra, qua sopra Sì Grazie a tutti.